la parola di oggi è desinare è una parola usata soprattutto in toscana e forse poco altrove il suo significato però è abbastanza noto vuol dire consumare il pasto principale della giornata pranzare anche chi non è toscano non ha dubbi se sente frasi quali oggi ho destinato al ristorante oppure in casa di amici o anche verrò oggi dopo desinato la porta era chiusa segno che il padrone stava desinando dice manzoni nel capitolo quinto dei promessi sposi descrivendo come fra cristoforo trova il palazzotto di don rodrigo nel suo patetico tentativo di ammansirlo è un verbo intransitivo ma il suo usiliare è il verbo avere il verbo è usato anche in modo sostantivato per rendere intendere appunto il pasto principale della giornata che si fa di solito a mezzogiorno ma anche più genericamente uno dei pasti principali sono frequenti frasi quali è stato un buon desinare mi piace un desinare semplice frugale oppure l'auto è ricco preparare il desinare e serve anche per indicare parti della giornata dicendo avanti desinare dopo desinare in toscano anche con una sola parola dopo desinare per indicare estensivamente la mattina o il pomeriggio molto interessante l'etimologia viene dal francese antico disner a sua volta derivato dal latino volgare disayunare composto da dis che indica rottura e gli eunum che vuol dire digiuno quindi rompere il digiuno evidentemente quello che per noi è quasi l'obiettivo principale della nostra attività lavoriamo per assicurarci un pasto una volta non era poi così scontato e mangiare desinare appunto cioè rompere il digiuno era quasi un evento talvolta l'unico della giornata tanto importante da meritare la riunione familiare intorno al desco il momento di raccoglimento per ringraziare dio la cura nel raccogliere riutilizzare gli avanzi cose sempre più rare al giorno d'oggi arrivederci a presto con una nuova parola